Una storia di fantascienza realmente accaduta. Un cattivone, molto cattivone, ha rapito i quattro migliori giocatori di poker al mondo. Punteranno la loro stessa vita per giocare ad un poker mortale. I giocatori attirati con un semplice inganno si preparano ora per la partita mortale. Ron Lad, detto anche Ladron, un giocatore dall'insospettabile talento. Cicoso Cech, ha vinto consecutivamente gli ultimi set tornei di poker del condominio Azzurro Cani. Johnny Giovanni John, l'Einstein del poker, un genio calcolatore. L'ultimo campione mondiale, Teddy Toyo Arsibaloi. Chi superviverà a questo poker mortale? Poker mortale! Dal 15 di settobre nei peggiori cinema. Palazzo Dio.